ciao sono cecilia e questa è la mia prima esperienza con outdoor test io sono un accompagnatore di media montagna mi sono occupata della parte escursionismo invernale quindi ciaspole zaini eccetera è stato molto interessante poter provare attrezzature diverse da quelle che uso di solito e in un ambiente super come il di ligno ciao